Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video E io forse ho la febbre, ho la mal di testa e stasera mangerò kebab Vabbè ragazzi, allora siamo qui in questo nuovo video perché siamo tornati nella serie del mio anno scolastico Dunque parliamo di tecnica. Comunque, vedi come stiamo messo là in gioco, cioè questa è la terza e ultima episodio Qui ci saranno o i prof o le vacanze, anche se le vacanze prima te le metterò per ultimo anno se metterò il sondaggio O comunque a me vi consiglio che se mette il sondaggio votate i prof che è più interessante Cioè perché le vacanze è quello che stiamo vivendo ora in questo momento e che gli esami ormai sono finiti e tutto Vabbè ragazzi, allora tecnica era una materia che io odiavo parecchio perché se stavo parlando di questa che era fissata La pratica è molto fissata, cioè un millimetro e andati che ci ha buttato Vediamo che questa se ne faceva degli sprechi Cioè, il tecofessore, se sapete quando è fatto, non spregate i quaderni, tutti i quaderni, no Ci avevo buttato in un giorno intero, era pure un album intero di fogli già squadrati, cioè quindi costava pure di più Non se ne faceva, ma poi andava proprio a spasso per le raccomandate Cioè, stasera per me la stanno portando avanti i miei amici raccomandati Vabbè, c'è stato parlando di questa, che era proprio, cioè uno con le fissate, proprio a dire poco Poco Io ora sto registrando questi video, questo video la sera stessa della live Che ho visto già andata molto bene Comunque quella è una serie, non ci sono altre live, non so quando, però vi sarò sempre su Google Plus Che è l'unico social minuto, quindi è più facile trovarmi là Ma, ragazzi, questa era particolare che era del posto, però parlava proprio, eh? Che qui non stiamo parlando di abito al nord, cioè no, al nord no Ma era proprio particolare, cioè quando è della migra, se mi credo, cioè entrava così Beh, ragazzi, allora ci incontriamo che probabilmente il prossimo video sarà una Versus tra modelli 1 Facciamo tipo 2-3 mesi fa Ragazzi, allora vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ciao Ciao